Qui dentro c'è la chiave d'ingresso alla redazione del Corriere della Sera. È la nuova app del Corriere, sia per smartphone che tablet, che ti porta ancora più vicino alla notizia. Un Corriere che diventa vivo, in un'app facile e completa, senza tradire la consuetudine dell'impaginazione cartacea, ma sfruttando l'interattività e tutte le potenzialità di smartphone e tablet. Innanzitutto è un'app unica sia per smartphone che tablet, con un'esperienza di utilizzo facile e identica sia su device Apple che Android. Dall'app accedi all'edizione quotidiana del Corriere della Sera, disponibile sin dalle 3 del mattino proprio sul tuo comodino. Quelle che vedi e sfogli sono proprio le pagine del tuo Corriere, che però si arricchiscono ora dopo ora di aggiornamenti direttamente sull'impaginato. La redazione del Corriere poi crea in esclusiva, solo per l'app, una serie di approfondimenti originali, la rassegna stampa nazionale e internazionale e le notizie del giorno, itinerari ragionati tra gli articoli delle ultime ore per essere sempre aggiornato. E hai accesso istantaneo ovunque tu sia, alle ultime due settimane del Corriere, ai suoi inserti e a tutte le edizioni locali. Insomma, la nuova app del Corriere della Sera è viva e vive con te. Provala subito!